Chiunque osservi il Campanile di Firenze non può che rimanere affascinato dalla sua architettura e dalla sua struttura. Un bel jumper anche dalla sfida che è davanti a sé. Un salto dal Campanile di Giotto per me sarebbe il mio cerchio perfetto. Un salto dal Campanile di Giotto per me sarebbe il mio cerchio. Un salto dal Campanile di Giotto per me sarebbe il mio cerchio.